Salve a tutti. La nostra proposta parte da un must, il cambiamento. Vogliamo questa occasione di cambiamento forzato di stili di vita e di lavoro per ripensare la società del futuro. Il warning, la tutela dei valori, perché proprio in periodi di crisi è forte la tentazione di accantonare come superflui temi che invece possono influire in modo determinante sul futuro sviluppo del paese, temi quali il lavoro, bene fondamentale e diritto esistenziale, la solidarietà che garantisce la tenuta del tessuto sociale ed economico, la sostenibilità ambientale intesa non solo come vincolo ma anche come leva di sviluppo strategico, la diversità di genere e l'inclusione come elemento di equità ma anche come fondamento per uno sviluppo più equilibrato, ricco ed efficace. La nostra proposta, puntare sulle donne in questa fase di trasformazione perché le donne custodiscono un patrimonio di know-how e competenze irrinunciabile in questa fase, come garantendone la maggior presenza nei luoghi decisionali e favorendo le condizioni affinché siano valorizzati contributo e merito di donne e uomini capaci. Gli interventi, garantire la partecipazione delle donne nelle task force che devono decidere la ripartenza delle attività, rafforzare il welfare di sistema e aziendale con interventi di sostegno alla conciliazione vita-lavoro, adottare policy di organizzazione del lavoro atte a garantire la compatibilità tra lavoro in ufficio e lavoro da casa, diffondere lo smart working come prassi anche dopo la fase più acuta dell'emergenza, rafforzando la cultura del lavoro agile e favorendo la disponibilità di strumenti tecnologici adeguati per supportarlo, promuovere l'adozione di modelli di leadership che enfatizzino la capacità di guidare le persone in situazioni di crisi e smart working, premiare l'adozione di policy di genere che garantiscano l'avanzamento di carriera delle donne e il superamento del gender pay gap. Grazie.